Allora, un video alla libertà d'espressione, un video alla serenità nell'essere sentito. No, così è noiosissimo. Allora, facciamo un brindisi a CEST, innanzitutto, che è dato da poco, e un brindisi alla salute e al benessere di tutti. Ok, allora facciamo così, pipì, urra! Pipì, urra! Pipì, pipì! Pipì, pipì! Eh no, te lo spiegheranno lui niente. È un video? Ah, un video, eh! Ciao! Siamo felicissimi di avere Camilla, ma non vuole che lo diciamo. È stato un grande piacere. Oltre il piacere! Oltre il piacere! L'orgasmo! Ma io l'ho preceduta del toro, l'ho detto io! Direi su questo posso spegnere. Ciao! Ciao!